Direttamente da Parigi sta arrivando la nuova Clio, voluta da Renault per restare sempre un passo avanti. Per raggiungere questo risultato la marca francese ha puntato su un design di nuovo stile, divenuto un marchio di fabbrica. Infatti questa oggi è Clio 2017, la best seller del marchio, che l'ha affidata per il nuovo stile della matita virtuale di Lorenzo van den Hacker, che saggiamente non ne ha stravolto il DNA proprio per questa compatta dalle mille soluzioni e possibilità per carrozzerie e motorizzazioni. Più matura e sempre più connessa attraverso tre differenti sistemi di comunicazione con il mondo esterno, la quinta generazione della Renault Clio si distingue esternamente per la firma ottica dei fari a LED con illuminazione diurna, ma anche per i nuovi paraurti anteriori e posteriori, la calandra e via via fino alle tinte monocromatiche personalizzabili per specchi retrovisori esterni e tetto. All'interno è stata profondamente rinnovata anche la plancia e i rivestimenti delle portiere, con l'adozione di un volante di nuovo disegno e perfino un nuovo pomello cambio. Tante le personalizzazioni possibili dunque, che ovviamente culminano con il massimo della flessibilità sulla versione Intonso, top della gamma Clio. Adatta anche a viaggi impegnativi, la nuova Clio sottolinea il suo modo di essere agile in città, grazie al corpo carrozzeria comunque compatto, che nelle manovre si avvale anche di un sistema di parcheggio automatico, che permette al guidatore di lasciare il volante e gestire solo cambio, acceleratore e freno. Clio oggi si propone al lancio con tre motori a benzina, con la versione di attacco costituita da un 1.2 da 75 CV, cui si può preferire il più conosciuto TCE nelle versioni da 90 o 120 CV. Quest'ultimo può essere equipaggiato sia con il cambio manuale a 6 marce, come avviene per le tipologie base della Clio, sia con l'automatico EDC, anche questo a 6 rapporti, un doppia frizione già noto sulle vetture Renault con ottimi risultati. Non mancano già adesso le versioni speciali e sportive, con la RS che offre la scelta tra tre soluzioni di telaio e motori da 200 o 220 CV e la RS Trophy che aggiunge un assetto ancora più sportivo oltre a un impianto di scarico personalizzato, che rende il sound del motore riconoscibile anche ascoltandolo mentre la Clio si sta avvicinando, una vera e propria firma acustica.